Poco dopo le 10.30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio di un tetto in via Spana a San Giorgio in Bosco in provincia di Padova. L'allarme è stato dato dagli operai intenti a fare lavori di isolamento sul tetto di una nuova abitazione. I pompieri di Cittadella e Padova, accorsi sul posto con due mezzi e sette operatori, hanno subito circoscritto le fiamme del tetto ventilato che si stavano estendendo all'intera copertura. L'intervento è terminato intorno a mezzogiorno con la messa in sicurezza del cantiere di lavoro.